Peggy3 e salve ragazzi sono ancora io qui Gordobon questo video di S4League stavolta sono sempre nei stessi stanzi di prima per il resto aspetta questo bella partita domani o dopo domani sarà su YouTube 5 2 5 3 Mi sono già pronto, mi sono già fatto, ok, ok, ok. E' un po' di più. E' un po' di più. Ora si irraggia di più. Sto... Sto mostrando cilindri. Ma che sorvelo? Ah, ecco. Ah, ecco. Questo! Eh, ma che torni. C'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 un Ok ianci Ahahah Ahahah Cheggio Cheggio Quanto non ho capito Noi per la parte del giro Ahahah Dalla 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 Ha detto Magate, magate, magate Magate, magate Magate, magate Ah, c'è troppo mi snipera, non vuolta. Ah, ma luce non vuol sais. Non vuol, c'è.... Sheriff! . Sì! Fatti mi passare, grazie. E tu, grazie. Che c'è? Che c'è? Oh, ma l'amore di me l'amore, c'è qui l'amore. Ah, non c'è. C'è? Trafori! C'è questo pro? Si, pro. Non c'è. Non c'è. Non c'è. C'è questo progetto da l'Italia qua. Sì, c'è questo progetto di. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Mamma, c'è un po' di più. Mamma! C'è un po' di più. Mamma, c'è un po' di più. C'è un po' di più. oh mio dio non sono ancora questo è un grande se sono testi come se sono passate se avevo ancora ora sp caccio 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 così si uccide cosa si piaga caccio 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 Ciao